per dare alcuni dati e alcune informazioni sul congresso di Più Europa che comincerà a Milano venerdì 25. Quindi io do la parola all'amministratrice di Più Europa. All'organizzazione e che quindi a breve comunicheremo le modalità di partecipazione per i congressisti iscritti. Ma appunto il congresso si aprirà con i saluti del sindaco Sala e avremo degli ospiti anche nella giornata. Si è discusso di fare un congresso di iscritti o di fare un congresso per delegati e abbiamo deciso di fare un congresso di iscritti perché l'esperienza di coloro caderivano e si riconoscevano. Avevamo voluto quindi un congresso di iscrizioni e devo dire che noi siamo arrivati dato che migliaia di persone hanno sottoscritto le candidature. È evidente che il congresso, l'ha già detto Silvia, muterà il tipo di candidati alla segretaria. C'è stata una polemica della presenza così che non è chiaramente in linea con la posizione della grado. Questo tipo di candidatura non prevista e non nata dai soggetti federali ha caratterizzato il nostro appello al paese. Però non ci potrà impedire oggi di andare avanti con decisione e determinazione verso il congresso. Le regole che ci siamo dati ci impediamo dei sovranisti. Siamo esattamente l'opposto. Questo per non generare confusione, noi siamo collocati lì. Io in particolare, quando nel 2014 ho fatto... Grazie. 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 Grazie.